Mi sono reso conto che quello che abbiamo detto ieri forse non era molto chiaro, ma una società produce solitudine come abbiamo accennato ieri perché tutto è concentrato, mirato a soddisfare le insoddisfazioni dell'uomo e quindi giustamente come dice Don Luigi Maria Picoco citando un meccanismo sintetizzato con questi verbi produci, consuma e crepa e questo meccanismo produci, consuma e crepa ci porta a comprendere che tutto in questo mondo non è finalizzato a ricercare la vita, ma è finalizzato a ricercare il sollievo, il respiro di ciò che ci fa sopravvivere. Cioè noi non possiamo tenere chiusi gli occhi dinanzi ai grandi problemi della vita, al dolore, alla morte, alla sofferenza che sono realtà intime della vita e la cultura di oggi a tutto ci propone una vita da uomini e donne eterne, sempre perfetti, sempre incolumi da ogni malattia, sempre così di bell'aspetto, sempre con macchine nuove, case di lusso eccetera eccetera. Questa non è la ricerca della vita perché la vita è fatta e vera anche di cose, è fatta anche di lavoro, di cose che ci costruiamo con onestà, ma la vita è fatta sia che sei ricco, sia che sei povero, sia che sei uomo pubblico, sia che sei una povera ma importante, importantissima mamma di famiglia o padre di famiglia, prima o poi qualcuno verrà a bussare la tua porta e non vede i titoli e non vede il condo in banga, ma vede la tua umanità e con la mia umanità io devo fare prima o poi esperienza della sofferenza, della malattia, del dolore, della paura, della solitudine e della morte. Ecco perché il mondo di oggi non mi aiuta a ricercare il senso della vita, ma mi aiuta o meglio mi impone a cercare soltanto ciò che porta sollievo ai problemi della vita. Forse lo si fa anche con buone intenzioni, ma si sbaglia. E' come quando un genitore, per esempio, per colmare le sue assenze, le sue incapacità, i suoi vuoti educativi nei confronti dei figli, li riempie di cose, ma non gli dà la sua presenza, non gli dà il suo amore, non gli dà la sua autorevolezza. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!